Ci risiamo, è bastata un'ora di pioggia intensa per far allagare di nuovo il sottopasso del Lidoafano poi chiuso al transito dei veicoli e via Pisacane di fronte alla stazione ferroviaria. Tanti i reporter di strada che fin dal primo pomeriggio hanno inviato alla nostra redazione foto e video per mostrare gli effetti e i disagi provocati dal temporale. I vigili del fuoco sono intervenuti per allagamenti in diverse zone della città come nel parcheggio dell'ex caserma Paolini, nel sottopasso dell'autostrada lungo via 4 Novembre a Rosciano e poi in quello di Viale Carducci dove un'auto con l'acqua arrivata all'altezza del cofano non riusciva più ad avanzare. Stesso problema anche per altri conducenti che poco dopo hanno percorso quel tratto di strada rimanendo bloccati. Sul posto anche la polizia locale. Nella zona del Lido poi è stato necessario l'intervento del carroattrezzi per soccorrere un'automobilista in via Simonetti. La provincia di Pesaro e Urbino è stata colpita anche da una breve ma intensa grandinata come mostrano i video dei telespettatori che hanno immortalato i piccoli chicchi di ghiaccio. Questo invece è uno dei fulmini catturati dalle nostre telecamere. Tanta infatti è stata l'attività elettrica che si è abbattuta sulla costa provocando anche blackout in diversi quartieri della città. Secondo le previsioni di Geometeo.it nei prossimi giorni ci sarà un tempo più stabile e soleggiato con temperature che si manterranno ancora al di sotto della media ma con un progressivo aumento a partire da domenica. Grazie. Grazie. Grazie a tutti